Buongiorno Chiara, come dicevi, questa è la situazione dell'onda del contagio stabile, il rapporto positivi tamponi, un posto in meno occupato in terapia intensiva, più 60 invece gli ingressi nei reparti Covid-208, i decessi, un numero davvero spaventoso. Quest'oggi vi parliamo dal quartiere di Baggio, siamo alla sede della Croce Verde, vedete il danneggiamento che è stato fatto a questa autoambulanza, con noi c'è il professor Fabrizio Pregliasco che è anche il presidente di Ampas, un ulteriore segno di difficoltà per il vostro lavoro sui territori. Sì, questo è un episodio probabilmente legato a un soggetto con problemi psichici, ma che ha evidentemente visto ciò che sta succedendo un po' in diverse parti d'Italia, un'aggressività, un'incredibile andare a cercarci perché secondo un po' di persone andiamo in giro per far paura alle persone. E quindi una situazione che è un po' diversa da quella che è stata nella prima ondata, dove dai balconi quando andavamo a prendere le persone ci applaudivano. Ora abbiamo questa difficoltà, una difficoltà che è legata sicuramente al problema di sofferenza, delle difficoltà economiche, della lunghezza di queste privazioni che porta a reagire in modo sbagliato. Il nemico è il virus, non sono le strutture che cercano di assistere. Ampas con le sue pubbliche assistenze in Italia, insieme a Croce Rossa e Misericordia, è stato un elemento fondamentale. Cittadini attivi che hanno voglia di collaborare con le istituzioni in modo organico, con le strutture del 112-118 e sono state determinanti. Quindi io credo che questo ruolo che è ultracentenario, la Croce Verde di Baggio ne è un esempio, ha ridato questo fiato a cittadini che hanno voglia di essere attivi e di collaborare insieme. Un'ultima cosa, Professor Pregliasco, rispetto alle prossime settimane ci aspettano ulteriori privazioni, però il vaccino è vicino e quindi più che mai è questo il momento per stringere i denti e fare l'ultimo sforzo. Sì, la situazione ormai è a un plateau, a un plateau che vi fa vedere un abbassamento nel numero di casi. Purtroppo, come si è detto, i morti che sono la parte più dolorosa, dobbiamo ancora subirli per un po' di settimane, ma questo dato ottimistico ci deve portare a sfruttare quelle piccole libertà che ci sono state date in più, ma senza esagerare. Tanto buonsenso proprio per poter consolidare un risultato e vivere meglio in attesa della vaccinazione. Vaccinazione che non avverrà nel breve periodo, dobbiamo immaginarsi una pianificazione che prenderà un po' di tempo, ma ci permetterà nel corso del 2021 di poter chiudere questo capitolo di una convivenza purtroppo infelice con questo virus. Grazie, grazie mille dal professor Pregliasco e da Milano, quartiere Baggio, la linea tornata in studio.